Sono 2.500, lei ha detto, le ambulanze in Italia che ovviamente tutti i giorni prestano servizio ai cittadini, ai pazienti. Ci vuole un'attenzione particolare per questo mondo? Ma sì, direi che intanto sono 2.500 quelle delle misericorde, ma poi c'è la rete legata alle misericorde, misericorde e solidarietà che comprende una grande fetta del nord Italia. Ci sono tutte le pubbliche assistenze, c'è la Croce Rossa. Insomma, in Italia ci sono migliaia e migliaia di associazioni che prestano il loro servizio a favore della persona. Ecco, credo che in un momento storico come questo, dove comunque dobbiamo tenere conto della recessione, della crisi, di tutto quello che noi stiamo vivendo, quindi il Paese lo sta vivendo, ma il mondo del volontariato è un mondo che non può non essere tenuto di conto, non essere tenuto come un patrimonio davvero dell'umanità, un patrimonio del nostro Paese con milioni di persone che si dedicano al volontariato. Il caro carburanti può mettere in pericolo tutto questo? Ma non è solo il caro carburanti. Certamente è il caro carburanti perché, esemplificando, noi anche lì ho detto non si può fare una guerra tra poveri, diciamo così, però ci sono delle categorie per i quali vengono concesse agevolazioni fiscali, credo che al mondo del volontariato non possa essere riconosciuto anche dei benefici. Siamo ora all'inizio di una campagna elettorale che si presenta davvero forte in tema di proposte, in tema di contenuti, in tema di promesse, come sia anche normale questo. Allora l'appello è che il volontariato venga davvero considerato come un patrimonio che debba davvero essere accompagnato, debba essere seguito. E quindi ecco, chi fa politica, io mutuo le parole del Santo Padre, chi governa deve servire. Allora davvero noi dobbiamo avere a che fare con gente che vuole governare il Paese, chiunque sia, chiunque avrà poi titolo di governare il Paese, ma governando, servendolo questo Paese. Quindi servendo soprattutto le persone più fragili.